È tutto pronto per la settantesima edizione della tradizionale Fiera dell'Epifania che si svolgerà domani, venerdì 5 gennaio. Saranno 330, a fronte di 504 richieste, le bancarelle che daranno vita alla settantesima edizione. Accontentati anche gli ambulanti di Piazza Duomo, che dopo qualche polemica saranno messi negli spazi a Piazza Duomo, oltre le casette di legno e la pista di patinaggio messa per il periodo natalizio. La manifestazione, che si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, è frutto di un lavoro di squadra che vede insieme il Comune attraverso gli assessorati al commercio e alle opere pubbliche, il Corpo di Polizia Municipale, la Protezione Civile, la FIVA Confcommercio e l'Azienda per la Mobilità Aquilana. Le 330 bancarelle si snoderanno lungo Viale Gran Sasso, Piazza Battaglione Alpini, Viale Malta, Viale Castello, Viale Tagliacozzo, Via Zara, Via Vittorio Veneto, Via Luigi Signorini Corsi, Via Tedeschi, Piazza San Bernardino, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Duomo e Corso Federico II. Ci saranno anche bagni chimici e posizioni di soccorso. Come di consueto, la Polizia Municipale ha istituito nelle zone interessate il divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione forzata dalle 20 del 4 gennaio alle 23.30 del giorno seguente. L'Ama, l'Azienda della Mobilità Aquilana, ha organizzato anche un servizio di bosnavetta per il 5, con partenza ogni 15 minuti dalle 9 alle 21, lungo Piazza Italia, Via Piccinini, Viale Corrado IV, Viale della Croce Rossa, Via Panella, Via Silone, parcheggio supermercato posto di fronte al cimitero monumentale, Via Cencioni, Via della Crocetta, Tunnel di Colle Maggio, Terminal Colle Maggio, Viale Colle Maggio e Viale Crispi, Circuito Colle Maggio e Ritroso, Via Cencioni, Via Silone, Via Panella, Viale della Croce Rossa, Via Beato Cesilio e Piazza Italia. È necessario munirsi di biglietto, ma saranno comunque validi gli abbonamenti. L'Ama rende noto che il servizio di linea resterà invariato, con l'esclusione delle fermate previste per la fontana luminosa. Intanto il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha disposto attraverso un'ordinanza la sospensione delle attività dei cantieri pubblici e privati operanti nel centro storico per la giornata di domani in occasione della fiera. La disposizione è finalizzata ad agevolare le attività organizzative di coordinamento e svolgimento della manifestazione, nonché a garantire le necessarie condizioni di sicurezza e pubblica incolumità.